Comunque tornando all'intervista che poc'anzi abbiamo ascoltato, io ho riscontrato il solito copione. Inizialmente il marito che induce in maniera molto subito e sottile questa moglie a lasciare il lavoro. Perché? Perché dovrà essere dipendente da lui economicamente. Rendiamoci conto che la dipendenza economica equivale anche a totale assenza di libertà. E molto spesso anche questa è una forma di violenza psicologica sottile. Io la definirei violenza economica perché così si fa torno a questa moglie, vittima, preda, terra bruciata. Ma la terra bruciata totale la si riscontra quando poi si riesce ad allontanare la vittima, questa donna, anche dal suo ambiente familiare, dalla famiglia d'origine. Cosicché essa sarà totalmente legata al suo carnifice, al punto tale da non poter chiedere aiuto all'esterno. Nel momento in cui poi questa sottile trama è completa, è definita, pian piano, lì dopo la violenza psicologica, cominciano gli episodi. E la donna del Vesuviano ce l'ha raccontato, cominciano gli episodi di violenza fisica. Ma quando scattano? Scattano nel momento in cui il carnefice realmente si sente al sicuro. E questa donna l'ha detto, era nato il bambino. C'era un bambino piccolo, lei non aveva possibilità economiche, non lavorava, non aveva reddito, non aveva più la sua famiglia. A quel punto il marito si è sentito libero anche di dar sfogo alla violenza fisica. Pensando che con un bimbo piccolo, senza un appoggio esterno e senza un reddito lavorativo, dove sarebbe mai andata. E quindi si intensificano così le violenze, le violenze fisiche e inevitabilmente anche i segni sul corpo, gli ematomi, i lividi. E io in quante donne questi lividi, questa sofferenza tremenda sul volto, io la leggo. E quante donne, così come l'amica di questo pomeriggio, istintivamente sono portate a difendere il compagno. Ma inizialmente lo difendono perché è l'unico legame che hanno. Probabilmente sono anche convinte di esserne innamorata, l'ho detto poco fa. Quante donne violentate, quante donne percosse, martoriate, credono che questi atteggiamenti di violenza, questi segni sul corpo non siano altro che la prova eclatante dell'amore del compagno, della gelosia. E non si rendono conto che invece sono soltanto tracce di una vera e propria profonda patologia che se non viene fermata in tempo le porterà alla tomba. Nel momento in cui una donna percepisce le percosse come simbolo d'amore, ecco, si è autocondannata. E scatta qui quella che in genere definisco la sindrome di Stoccolma, quando cioè la vittima si lega in maniera così morbosa al suo carcediere da non saper più capire nemmeno che quell'uomo la sta distruggendo. Donne che sono morbosamente visceralmente legate ai propri compagni, individuando i sintomi di violenza come segni d'amore, ecco, quelle donne sono al tempo stesso vittime ma anche complici di questa violenza. Perché questa violenza man mano si, diciamo, esplode in maniera più frequente anche per colpa l'ora. Non bisognerebbe tollerare il minimo schiaffo, la minima ingiuria, nemmeno quello sguardo violento e minaccioso bisognerebbe tollerare. Nel momento in cui si comincia a tollerare è come se si firmasse la propria condanna a morte e se non si giunge a una violenza fisica così grave si firma comunque la propria condanna alla propria infelicità. E in questo io devo dire che una grande responsabilità deve essere data anche all'ambiente esterno, parentale, amicale. Tutti coloro i quali pensano che sia giusto non entrare in quelle vicende e intuiscono la violenza ma ne stanno fuori, ne stanno lontani. Ecco, se avessero il coraggio queste persone di segnalare, ma anche in maniera anonima, purché circostanziata le violenze e segnalarle alla polizia giudiziaria, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla procura, probabilmente comincerebbero a dare una mano a queste persone per uscire dal vortice della violenza in cui sono precipitate. Ormai le statistiche lo dicono chiaramente. La violenza intrafamiliare uccide più della mafia, della camorra, dell'andrangheta messa insieme. Ma uccide in maniera ancora più improvvisa, quasi eclatante, perché ecco la delinquenza, la criminalità organizzata, agisce almeno su logiche ugualmente spietate ma prevedibili. Invece questa forma di violenza intrafamiliare a volte sembra veramente esplodere dal nulla, ma in realtà i sintomi, le tracce esistono e sono evidenti. Il problema è che tante volte noi siamo così assurati, così abituati a non volerci impelagare in vicende che non ci interessano, da sottovalutarli. Sono davvero, e io ne sono certa, delle tragedie annunciate, basterebbe un po' più di attenzione per evitarle. Lei dice basta all'omertà, non soltanto facciamole battaglie contro la criminalità, ma facciamole anche per questo tipo di violenze e questi episodi. Anche perché questi fanno leva, e quindi sono ancora più squallidi, perché fanno leva sui sentimenti, fanno leva sull'amore, che li va a mascherare, li va a coprire in un certo qual senso. Rivolgersi, ecco, dare una mano, aiutare queste donne che sono in difficoltà, in questo tipo di difficoltà, quindi dei consigli, innanzitutto quello di rivolgersi agli sportelli, che ora ce ne sono davvero tanti, e quelli più seri che possano dare un aiuto anche psicologico, perché la prima cosa credo che sia questa. L'ascolto, l'ascolto di queste donne. E di sentirsi poi qualcuno che ti aiuta al tuo fianco, in modo da non avere più paura, credo che questo sia fondamentale. Queste donne vanno ascoltate, vanno accolte, però c'è da fare anche una riflessione e una sottile denuncia. Ascoltare le donne, avviarle appunto alla denuncia, convincerele a denunciare il carnifice, non basta. Bisognerebbe dopo a queste donne dare un alloggio sicuro. E questo è un elemento che almeno sul territorio io riscontro, è una carenza enorme, tragica, perché queste donne tu puoi anche veramente convincerele con un lavoro certosino attente, indurle alla denuncia, però dopo dovresti anche avere la possibilità di dar loro una struttura adeguata, una casa che possa accoglierle magari con i loro bambini. Questo è fondamentale. Posso darle un'anteprima. Mi ha dato l'assist per una notizia che forse andava mantenuta un attimino con tanto di riservo, ma l'occasione credo che sia propizia in questo momento. Quella della volontà del Vescovo di Pompei di aprire una casa proprio di accoglienza per le ragazze vittime, per le donne vittime di violenza e dei bambini maltrattati. E questo credo che sia imminente l'apertura, l'inaugurazione, la gestione anche ai volontari della Casa Famiglia di Angri. Quindi una casa che verrà aperta a tutte le donne che si trovano in condizioni di difficoltà. Lei forse non era ancora conoscita. No, io avevo già avuto sentore di questa cosa, però poiché non è appunto come lei ha detto ufficiale, io volevo proprio lanciare questa provocazione per poi poter ricevere questa rassicurazione. Ovviamente però un'unica struttura sul territorio non basta. Dobbiamo tutti impegnarci perché siano sempre più numerose. E poi un altro elemento fondamentale, ormai l'ONU da anni chiede all'Italia di creare, di costruire un osservatorio a livello nazionale sulla violenza intrafamiliare per poter monitorare sinergicamente, registrare e valutare le strategie di contrasto più adatte ed opportuno. Perché i dati che ci arrivano sono purtroppo molto frammentari. Invece noi dovremmo avere la possibilità di individuare a livello scientifico e nazionale un osservatorio che possa appunto essere un enorme contenitore di dati che poi andranno rielaborati e dall'esame dei quali si potranno individuare le strategie più utili ed opportune, anche perché il tempo è davvero poco. Ormai alla violenza intrafamiliare che vede vittime le donne in quanto mogli o compagne o conviventi, si aggiunge un fenomeno ancora più sconvolgente e la signora di questa sera ha dato un'indicazione in questo senso. I figli, la violenza assistita, rendiamoci conto che i bambini che crescono all'ombra del padre violento inevitabilmente saranno degli adolescenti violenti e quante donne separate che hanno presso di sé collocati i figli mi vengono a raccontare delle storie angoscianti, veramente tremende e squallide. Questi lo hanno presso di sé collocati.